Messer Boccaccio, Barravenna dalla figlia dell'Alighieri, con il compito di chiederle perdono da parte dei fiorentini. Cavalcando l'altrier per un cammino, pensoso dell'andare che mi sgradì, trovai amore in mezzo della via. Cos'è? Una poesia bellissima, di un prescelto. Vi saluto. Vi saluto. Tanto gentile, tanto onesta a fare. La donna mia, quant'è gli altri saluta? Ogni lingua del ventre mando muta. E gli occhi non l'artiscono di guardare. Un belloso sguardo, c'è l'emozione del mondo. Scrivete un libro solo di morti? Solo di morti. Ha scritto che la vigna che sua santità distrugge è la Chiesa, la nostra santissima Chiesa. Ha cercato Dio e Dio è là alla fine di tutti i disegni. Also di forti. Ciao. 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 Ciao.